ciao a tutti e buonasera a tutti quanti e grazie di essere qui per questa seconda serata dedicata ad antra fatta appunto tenuta da dai ragazzi di strumenta in particolare questa sera avremo l'onore di avere con noi federico che ci racconterà un po di cose molto interessanti questa sera andiamo ancora un po più nel dettaglio diciamo delle cose che abbiamo visto la precedente serata e quindi io insomma ringraziamo davvero tanto strumenta per federico alessio per la per la disponibilità di queste tre serate e come sempre questi sono i nostri contatti e i nostri riferimenti quindi qui trovate appunto con questo quarkodo con link link 3 python biela group tutti i nostri contatti canali discussioni comunicazione c'è il nostro link github su cui potete trovare il materiale di queste serate che già stato caricato e ovviamente grazie a tutti voi di essere qui questa sera e grazie sempre a mario ea davide per l'organizzazione chi per chi non avesse ancora fatto iscrivetevi sul canale youtube che ci ha aiutato a raggiungere quota mille iscritti un grandissimo traguardo chissà se ci arriviamo entro quest'anno vediamo ok grazie ancora a tutti i nostri amici e a tutti i nostri insomma partner e persone con cui stiamo collaborando e lavorando assieme quindi python milano intervista pythonista e angelo paese la lab jungle girls vi segnalo che con python milano ci saranno dei bellissimi incontri questa settimana e anche le prossime settimane molto molto interessanti quindi vi consiglio di andare sui loro canali per guardare un po un punto che cosa cosa fanno c'è un bellissimo meetup sui dati e ovviamente come vi ho detto tutto il materiale di queste serate e di questa serata lo trovate su github c'è una repository appunto dedicata e trovate appunto tutto il codice le slide insomma la documentazione e tutto quanto io mi taccio e lascio la parola a federico beh innanzitutto grazie agli organizzatori e partecipanti e stasera parliamo di come mettere un po i parser all'opera e quindi per coprire questo argomento iniziamo col raccontare un po quali sono le applicazioni del language engineering e questo secondo me è utile farlo per due motivi quindi il primo è perché mi sembra che sia una domanda che si è emersa anche l'altra volta quindi approfondisco quello che già aveva detto Alessio con qualche slide e qualche esempio e poi perché anche in questi anni ci siamo occupati di parser e di argomenti del genere abbiamo visto magari tanta curiosità da persone interessate all'argomento che però si chiedono come poi sfruttare questo interesse e metterlo in pratica magari nel loro lavoro quotidiano quindi c'è chi si avvicina al language engineering magari perché vuole crearsi il suo linguaggio per passione c'è chi lo fa perché magari vuole capire come funziona un compilatore quindi diciamo per motivi più di curiosità ma c'è anche chi si chiede di come poi posso effettivamente avere un'applicazione pratica nel mio lavoro e quindi convincere il mio capo a lasciarmi giocare con il parser e quindi cerchiamo di dare qualche spunto su questa cosa poi parleremo dell'Absters Synthes 3 che è uno degli elementi chiave per realizzare tutte le applicazioni del language engineering che vedremo e quindi innanzitutto spiegheremo perché è utile e poi vedremo come utilizzarlo e infine per vedere un'applicazione concreta faremo un piccolo interprete per un linguaggino e così vedremo un po' un interprete che gira per la fine di questa serata quindi questo è l'obiettivo appunto come è stato detto io sono Federico Tomassetti io rimpiazzo un mio collega che ha avuto un inconveniente stasera e confesso da subito di non essere un esperto di Python quindi magari stasera avremo uno scambio magari vi racconto qualcosa sul language engineering e imparo qualcosa sul parsing su Python e la mia esperienza principale su Python era stato questo generamondi che avevo fatto qualche anno fa quando proprio volevo imparare Python allora avevo fatto questa applicazione che simula i movimenti del black tettonic che è un po' di fenomeni come l'erosione per cercare di creare delle mappe realistiche quindi lo trovate anche open source su GitHub caso mai vi interessi quello quindi applicazioni del language engineering ne vedremo sostanzialmente tre che sono quelle che vediamo più comuni la prima è la creazione di editor intelligenti cosa intendiamo per editor intelligenti? intendiamo degli editor che in qualche modo comprendono un linguaggio quindi capiscono quello che stiamo scrivendo quindi a differenza di notepad dove testo è puramente testo negli editor intelligenti come tutti gli ID che siamo abituati ad utilizzare ma anche lo stesso sublime quindi editor un po' più leggeri capiscono quello che scriviamo e per questo ci danno alcune funzioni più avanzate per esempio la prima che forse potrà sembrare banale è quella della sintassi colorata ora la sintassi colorata la si può fare a diversi livelli a un livello più semplice potrebbe bastare un semplice lexer come abbiamo visto l'altra volta si può scrivere in answer e quindi magari semplicemente identificare le parole chiave e farle in un certo colore o identificare certi simboli o per esempio i string literal come in questo caso che sono in verde in realtà però in alcuni casi se vogliamo una sintassi colorata più furba e intelligente ci servono ragionamenti ulteriori per esempio se nel nostro linguaggio abbiamo degli identificatori dei nomi che a prima vista potrebbero indicare delle classi o delle variabili per esempio e voglio colorare le classi con un colore e le variabili con un altro allora non mi basta guardare il fatto che quello sia un identificatore devo capire che cosa identifica e quindi andare a capire a che cosa fa riferimento un certo simbolo oppure se io voglio colorare in maniera diversa le variabili che non sono mai lette che magari sono solo scritte magari le voglio fare in grigio chiaro per indicare che c'è qualcosa che non va devo fare già un ragionamento più elaborato e quindi anche la semplice sintassi colorata può richiedere un'analisi e una comprensione del codice che c'è nell'editor un'altra cosa è riportare gli errori o i warning o a volte anche solo dei consigli stilistici anche qui dobbiamo fare delle analisi per comprendere che magari un certo import fa riferimento a un file che non esiste che magari sto cercando di fare un'operazione non valida perché sto provando a sommare non lo so, due booleani e non si può e tutte queste cose quindi richiedono di analizzare il linguaggio e quindi un parser e quindi anche un AST come vedremo un'altra cosa è l'autocompletamento l'autocompletamento a un livello più semplice magari mi chiede di analizzare proprio il contesto in cui si trova il cursore e capire che in quel punto può seguire un certo operatore una certa parola chiave in altri casi può anche voler dire andare ad analizzare quali sono per esempio le variabili visibili in quel punto magari io sono dentro a un metodo e voglio far vedere tutti i campi accessibili magari anche i campi che ho ereditato da una certa classe devo già fare un'analisi che non è affatto banale quindi sì, anche per l'autocompletamento c'è un certo lavoro pensiamo anche a l'autocompletamento che segue a un punto quindi se io scrivo pippo punto che cosa faccio vedere? farò vedere i campi e i metodi di pippo ma devo capire pippo di che tipo è dove è stato dichiarato e così via quindi anche qui per una cosa semplice come l'autocompletamento c'è un grosso lavoro di comprensione del linguaggio me ne ha saldato uno far vedere ancora i prototipi quindi quando io sto vedendo un riferimento a un qualcosa per esempio una chiamata, un metodo, una funzione e se vogliamo un riferimento alla definizione della funzione se io riesco a capire, a trovare la dichiarazione posso poi mostrare alcune informazioni come per esempio il prototipo che mi aiuta a capire quale parametro devo inserire o un'altra cosa che può apparire banale è quella di collassare o espandere delle sezioni anche qui devo capire dove finisce quella sezione magari in Python sfrutto il fatto dell'indentazione per capire che finisce un metodo in un certo punto in altri punti posso avere dei delimitatori come le parentesi graffe ma in altri ancora magari un elemento implicitamente chiuso dall'inizio del successivo e allora a seconda del linguaggio devo fare anche lì dei ragionamenti non banali per creare degli editor che quindi comprendano il linguaggio e usino questa comprensione per aiutarmi a utilizzare l'editor una seconda applicazione del language engineering è un'applicazione che mi sta particolarmente a cuore ed è quella della creazione dei domain specific language quindi linguaggi di dominio specifico che in pratica sono dei linguaggi che mi servono a fare con molta facilità e molto bene una certa cosa limitata quindi questo in contraposizione a linguaggi general purpose come Python o Java che in principio possono essere utilizzati per fare qualsiasi tipo di applicazione ora il termine domain specific language può voler dire tante cose diverse ci sono tanti sottogruppi di domain specific language ma a mio avviso sono particolarmente importanti di quelli che sono rivolti ai non sviluppatori e che quindi permettono a coloro che non sono sviluppatori ma sono esperti di qualcos'altro di catturare la loro conoscenza per creare del software, delle automazioni o altre cose e quindi cambiare un po' il modo in cui di solito loro collaborano con gli sviluppatori perché di solito un esperto che non sia un programmatore l'unico modo che ha per accedere all'automazione è per tramite di uno sviluppatore cioè spiegargli cosa vuol fare e lo sviluppatore poi per lui lo implementerà quindi per un po' cercare di promuovere queste idee insieme a Marcus Wolter e Sergey Koschev abbiamo lanciato questo manifesto che si chiama Subject Matter First proprio per cercare di spingere l'idea che i DSL possono cambiare il rapporto tra sviluppatori e non sviluppatori siccome tutto questo è molto astratto vediamo un esempio questi sono in questa slide successiva vediamo degli screenshot presi da un articolo scritto da Marcus Wolter me ed altri che riguarda un DSL che abbiamo sviluppato e che c'è stato possibile rendere pubblico in un articolo e quindi giusto per darvi un'idea di quale potrebbe essere una possibile applicazione questo è un DSL utilizzato in ambito medico in particolare per la creazione di medical companion software cioè applicazioni che ci si installa sul telefono e vengono date a un paziente per monitorare la propria condizione e quindi ricevere un qualche tipo di supporto che ovviamente non va a sostituire il medico ma va ad affiancarlo per esempio possiamo immaginare un'applicazione che raccolga le misurazioni del livello di glucosio e ti dia ti dia l'indicazione di quanta insulina iniettarti oppure applicazioni che pazienti che stanno seguendo una certa terapia per esempio chemioterapia possano utilizzare per monitorare le loro condizioni dalla temperatura della febbre a registrare dei sintomi che hanno a ricevere dei suggerimenti e quindi questi sono solo degli screenshot così per dare l'idea che si possono creare linguaggi più accessibili che vengono poi utilizzati per sostanzialmente generare l'applicazione con tipi di analisi magari di errori specifici per il tipo di applicazioni e linguaggi che in questo caso per esempio non permettono di fare null'altro che descrivere applicazioni in ambito medicale i DSL poi il concetto di DSL si può applicare a tanti altri settori il settore per esempio finanziario parlavamo prima che iniziasse la presentazione del fatto dell'idea di scrivere dei trading bot con un linguaggio specifico che magari comprenda il concetto di azione il concetto di candela per vedere entro quali limiti un certo valore oscillato e così via quindi il concetto di DSL si può applicare a diversi settori e infine una terza applicazione è quella dei transpiler quindi immaginiamo per esempio questo scenario che lavoriamo in un'organizzazione che non so nei primi anni 2000 si è fatto un software interno per esempio per la gestione del magazzino in Visual Basic ora vent'anni dopo Visual Basic non è più supportato i programmatori Visual Basic scarseggiano e noi ci diciamo io vorrei la stessa applicazione con la stessa logica ma la vorrei in Python e magari impiazzando l'interfaccia desktop con un'applicazione web quindi se questa applicazione è piccola mi armo di forza e coraggio e me la riscrivo in Python se è un po' più grande la cosa diventa problematica perché magari non capisco il codice originario magari non conosco Visual Basic e perché tipicamente i requisiti non sono scritti da nessuna parte se non nel codice quindi devo fare questo lavoro di comprensione e riscrittura quindi se l'applicazione è più grande di non so centomila righe difficilmente questa riscrittura a mano ha successo in tempi brevi e quindi l'idea è di invece realizzare un software che legga il codice originario e lo traduca quindi questo è un video di un'applicazione un giocattolo diciamo solo fatta per visualizzare il concetto di transpiler e quindi raccontare un po' in pratica che cosa succede e quindi in questo caso io proverò a trascinare un file in questo linguaggio rpg adesso sta andando più veloce saltando dei pezzi però non importa perché quello che succede è che quindi in questa diciamo applicazione web io carico del codice rpg vedo che il sistema lo analizza e costruisce una st del codice rpg che quindi mi dimostra che ha capito che il codice c'era scritto e poi successivamente lo traduce nell'ast del codice destinazione in questo caso java e infine produce proprio il codice java corrispondente al codice rpg originario come vediamo in quest'ultimo fermo immagine ecco per tutte queste applicazioni che abbiamo visto stasera dietro le quinte c'è presente una st e quindi iniziamo a vedere che iniziamo a vedere come farlo prima però proviamo un attimo a vedere al volo la demo dell'interprete che vogliamo avere a fine serata e allora mi sposto qui quindi ora per rendere l'interprete un pochino più visibile ho fatto una piccola applicazione in flask che mi si è aperta ovviamente nell'altra finestra ma io la copio qui e l'idea che cos'è l'idea è di avere un semplice interprete dove io potrò fare cose come creare delle istanze per esempio quindi dovrei aver creato la mia istanza e quindi se vado qui vedrò che c'è una nuova istanza ma poter anche non lo so stampare qualcosa fare dei semplici calcoli e quindi in questo caso vedrò il risultato qui quindi potremmo poi non lo so magari anche creare delle variabili e magari fare riferimento a queste variabili quindi se io lo faccio in questo caso stamperò più uno mi stampa il nome in questo caso il nome non è stato specificato e quindi mi stampa unspecified quindi per ora non non un linguaggio comunque chissà che avanzato e se io provo a scrivere uno statement che non esiste per esempio non abbiamo il for se io scrivo for dovrei ricevere un errore quindi abbiamo dietro le quinte un interprete che almeno a un livello base fa qualcosa quindi per scrivere questo interprete se vogliamo sostanzialmente noi dobbiamo fare due cose primo capire che cosa l'utente ha scritto e poi una volta che l'abbiamo capito eseguire quello che l'utente ci ha detto essere la sua intenzione in pratica ora questo capire che cosa l'utente faccia lo traduciamo in creare la st che è in pratica un modello dell'informazione scritta nel codice quindi adesso vediamo perché questa comprensione di quello che è scritto nel codice lo rappresentiamo tramite la st e iniziamo col dire che la st è qualcosa che noi mettiamo in coda ad antler quindi la volta scorsa Alessio ci ha parlato di come utilizzare antler quindi ora non ce ne usciamo con la st da zero ma lo mettiamo a complemento di quello che abbiamo già visto con antler e quello che facciamo è questo prendiamo l'output di antler che è il parse tree e lo convertiamo in una diversa rappresentazione che si chiama abstract syntax tree o a st ora a questo punto non vi darò una definizione diciamo accademica della differenza tra parse tree e st quindi tra l'output di antler e quello che vogliamo ottenere il primo motivo è perché non la so la secondo perché anche non penso che sarebbe particolarmente utile invece vorrei darvi una definizione più qualitativa e dire che la st è sostanzialmente una semplificazione del parse tree andiamo a tirare via dei dettagli che erano utili in fase di parsing ma che poi non ci sono più utili e quindi andiamo a ottenere una rappresentazione che è più semplice e quindi il primo motivo per cui introduciamo la st invece di usare direttamente l'output di antler è perché approfittiamo di questo passaggio per sfrondare e semplificarci un po' la vita in un certo senso sia il parse tree che l'St sono una rappresentazione delle informazioni che c'è nel codice ma se vogliamo il parse tree è lì e questa rappresentazione è vista dal punto di vista del parser e quindi con tutti i dettagli di cui il parser ha bisogno nell'St invece abbiamo una visione più simile a quella che una persona avrebbe del codice per darvi un esempio qui possiamo vedere una riga di codice rpg che è un linguaggio affascinante e per la stessa riga di codice possiamo vedere il parse tree e la st e la prima cosa che noterete è che la st è più conciso è più semplice e la st contiene informazioni che avevo nel parse tree ma organizzate in maniera più semplice e eliminando un po' di dettagli per cui adesso non è utile capire il rpg e tutti i dettagli di questo parse tree e di questo st ma credo che a colpo d'occhio sia facile vedere che la st corrispondente per lo stesso pezzo di codice è abbastanza più semplice e quindi primo motivo per introdurre la st la semplificazione il secondo motivo è il fatto che noi esprimiamo la st utilizzando una libreria che ci dà un sacco di API molto utili per tutte le applicazioni di language engineering che vogliamo utilizzare questa libreria che si chiama Pailasu e che è una libreria open source che abbiamo sviluppato in strumenta è una di quattro librerie diciamo sorelle che sono sostanzialmente la stessa libreria reimplementata in diversi linguaggi questo perché c'è utile scrivere applicazioni in Coten e quindi Colasu in Typescript e quindi Tailasu in Python e quindi Pailasu e dalla scorsa settimana abbiamo anche Sharp Lasu quindi la versione per C Sharp quindi a questo indirizzo trovate una presentazione di in generale di queste quattro librerie sorelle del tipo di funzionalità che offrono queste sono tutte le funzioni che a noi negli anni sono tornate utili mano a mano che facevamo progetti e quindi mano a mano abbiamo esteso e che quindi pensiamo coprano un ampio spettro di casi e che appunto sono tutte open source quindi se vi interessa scrivere applicazioni di language engineering potete pensare di sfruttarli ora adesso che abbiamo visto perché ci vuole l'ST quindi per introdurre semplificazioni per avere migliore API rispetto all'output nudo e crudo di Hunter possiamo andare un po' a vedere come effettivamente lo utilizziamo nel caso del nostro interprete nel caso del nostro interprete abbiamo visto che abbiamo un piccolo linguaggio di scripting e quindi abbiamo qui ecco spero che si legga abbastanza bene qui abbiamo la definizione dell'ST quindi l'ST è composto da diversi nodi di diverso tipo essendo un albero ha sempre diciamo una radice un punto di ingresso unico e nel nostro caso è la classe script quindi quando noi scriveremo uno script lo parseremo otterremo l'ST otterremo un oggetto un'istanza della classe script che rappresenterà l'intero script e che conterrà poi dei figli che saranno tutti gli statement per creare l'ST noi facciamo sempre delle data classes che estendano node che è una classe definita in Pailasio e che rappresenta i diversi nodi dell'ST poi in questo caso definiamo un tipo di campo quindi statements che è una lista di elementi di tipo statement e abbiamo il concetto di statement qui che è una classe astratta in questo caso ora nei linguaggi di scripting vedrete quasi sempre il concetto di statement ed espressione a strati con poi diverse declinazioni nel nostro caso per esempio abbiamo pochi statement come lo statement di print lo statement create che ci permette opzionalmente di attribuire un nome all'oggetto che creiamo lo statement set per andare a impostare dei campi degli oggetti che creiamo e poi abbiamo una serie di espressioni come la reference che ci permette di fare riferimento a una variabile e poi get instance per accedere a un certo campo di una variabile più altre se vediamo un po' la struttura abbiamo visto script contiene una lista di statement quindi una lista di altri nodi e print statement contiene un singolo figlio di tipo expression quindi contiene un altro nodo che è un'espressione e questa create statement invece ha due tipi di campi un po' diversi quello semplice se vogliamo è il campo name che ha un semplice valore che non è un nodo quindi non sarà quindi un altro nodo un sottonodo di questo ma sarà un valore primitivo se vogliamo quindi il nome della variabile che stiamo creando però poi abbiamo un altro concetto che invece è se vogliamo tipico di questa libreria che è quello della reference by name cioè quando io scrivo create project project nel mio parse tree quindi dal punto di vista di hunter sarà solo un nome un id dal punto di vista dell'st invece io lo andrò a trattare come una reference una reference by name per cui nel momento in cui io parso mi segno che qui ho il nome project e poi più tardi vedremo che andremo a risolvere le reference andando a capire a che cosa fanno riferimento e quindi andare a trovare da qualche parte la definizione di project e segnarmela in quel punto in modo che possa accedervi se per esempio più tardi avessi bisogno di sapere quali sono i campi quindi le feature dell'entità project tramite questo link potrò saltare alla definizione di project e lì leggere le informazioni che mi servono quindi questa è un po' una cosa particolare dell'est quindi la st abbiamo visto sono semplici data classes quindi puramente se vogliamo dichiarativo non c'è logica a parte qualche metodo di complemento che ci aiuta per esempio a usare questo nodo come chiave all'interno di un dizionario cosa che mi tornava utile nell'interprete quindi ho aggiornato questo metodo ma si tratta di eccezioni andiamo adesso a vedere un po' alcuni test che utilizzino il parser per vedere un po' come funziona e quindi anche approfittarne un po' per vedere alcune API dell'ASP ora partiamo dal caso più semplice possibile quindi ho solo statement ho una create client quindi voglio istanziare un cliente e voglio dargli assegnarlo a una variabile c poi in realtà all'interno di questo script finendo non la uso mai quella variabile c però pazienza quindi quello che faccio è parsarlo e ottengo da questo parser che ora vedremo come è fatto un result un result contiene due cose la lista di errori che eventualmente ho riscontrato provando a parsare questo codice e poi la ST quindi la radice dell'albero dell'AST che ho ottenuto parsando questo codice quindi in questo test io mi aspetto che non ci siano problemi e quindi le mie issues siano vuote e poi mi aspetto di avere come radice di quest'albero un oggetto di tipo script che contenga un solo statement che sia uno statement di tipo create statement con una reference by name all'entità client e con il nome della variabile dichiarata c quindi se questa cosa funziona passa quindi è sempre bello vedere nelle demo le cose che falliscono però magari saremmo più fortunati più tardi per ora possiamo andare a vedere come funziona il nostro parser che sostanzialmente invoca il lexer di antler invoca il parser di antler prende il risultato e lo converte in LST ora nell'invocare il parser di antler fa una cosa un po' particolare cioè dice toglimi l'error listener tipico che cosa fa l'error listener tipico mi mostra gli errori a linea di comando quel comportamento non mi interessa quindi rimuovo l'error listener dall'exer e aggiungo un mio error listener che si prende gli errori e se li segna in questa lista di issues che sarà quella che poi ritornerò stessa cosa per il parser poi costruisco la ST e per farlo andiamo a utilizzare un meccanismo un po' particolare quindi un po' di metaprogrammazione che è stata un'idea di Alessio quindi mi limito a presentarla qui utilizziamo il concetto di extension method cioè quello che vogliamo fare è andare ad aggiungere a posteriore a una classe esistente un metodo perché vogliamo fare questo perché noi questo metodo tua ST lo vogliamo aggiungere a quelle classi che antler genera per noi quindi questa classe script contest è una classe che così come le altre in questo file è stata generata da antler a partire da una grammatica quindi noi non vogliamo andare a modificare manualmente una classe che genera antler e quindi invece quello che facciamo è utilizzare un extension method che non è null'altro che un decoratore che prende la definizione della classe e ci schiaffa dentro il metodo di modo che poi io nel mio parser lo possa chiamare così come fosse un metodo normale quindi questa cosa che cosa fa quindi essendo un metodo sebbene inserito al di fuori il primo parametro è sempre il parametro distanza quindi il nodo del parse tree che voglio convertire in nodo di st e si prende anche un riferimento alla lista di issues così che se venissero fuori dei problemi durante la conversione andrei a popolarli e aggiungerei a questa lista di issues in aggiunta agli errori già riscontrati da antler ora in questo caso la conversione è quanto di più banale ci possa essere perché io dico per uno script nel parse tree e diciamo le classi del parse tree le classi generate da antler le riconosco perché finiscono tutte con context ecco per uno script nel parse tree voglio generare uno script nell'st e voglio che prendi tutti gli statement che c'erano nel parse tree e per ognuno di quelli li converti uno a uno in statement dell'st se tutte le conversioni fossero così avremo un'st che è uguale al parse tree a meno del fatto che abbiamo classi che estendono node e quindi hanno delle funzionalità ulteriori in realtà però non è sempre così per esempio andiamo a introdurre le reference e quindi a dire guarda questa cosa qui per esempio quando convertiamo il create statement diciamo questa entity il nome di questa entity che per il pastri era solo un nome una stringa per noi è una reference by name e quindi introduciamo un primo cambiamento un primo raffinamento se vogliamo ma un altro tipo di raffinamento lo possiamo vedere qui per per spiegarvi questa cosa vi faccio vedere anche la grammatica dello script del linguaggio di script che troverete poi sul su repository oggi non mi ci concentro molto perché Alessio ci ha già raccontato di come scrivere le grammatiche quindi oggi ci concentriamo sull'St però in questa grammatica antler voglio farvela vedere per farvi vedere questa cosa qui che in questo caso sto definendo le varie espressioni che posso fare nel mio linguaggio di script e sto dicendo che alcune espressioni hanno questa forma qui posso avere una espressione sulla sinistra poi un operatore che è l'operatore di divisione o di moltiplicazione quindi lo slash o l'asterisco e poi un valore sulla destra sotto ho un'espressione molto simile con il più e il meno ora queste due espressioni cioè questi due gruppi sicuramente vanno su righe separate perché hanno livelli di precedenza separati quindi non li non avrei potuti mettere in una riga assieme li avrei però potuti mettere ognuno di questi su due righe separate quindi fare una regola per la div e una regola per la moltiplicazione non l'ho fatto così solo per un puro e semplice dettaglio di performance nel caso di script molto grandi e di grammatiche molto complesse raggruppare in un'unica riga espressioni che hanno lo stesso livello di precedenza mi porta delle performance migliori e quindi l'ho fatto però il il problema è che però facendo così io poi ottengo un nodo che è o una divisione o una moltiplicazione a seconda dell'operatore quindi è una cosa un po' sporca se vogliamo io non per me la divisione e la moltiplicazione sono due cose diverse se vogliamo un dettaglio implementativo che durante la la fase antler diciamo mi convenga metterle assieme e quindi quello che io faccio poi è nell'AST di separarle cioè io ottengo nel parse tree un nodo che può essere divisione o moltiplicazione e poi però guardo effettivamente l'operatore e a seconda dell'operatore istanzio i due nodi dell'AST che sono diversi o una divisione o una moltiplicazione stessa cosa per somma e sottrazione quindi diciamo che in questa conversione da parse tree a ST posso andare a ripulire delle cose che magari per motivi di performance o per magari per complicazioni dello scrivere la grammatica non ho potuto fare nella maniera più concettualmente pulita possibile questa cosa qui la rimuovo e quindi poi tutto il resto del sistema che vedrà la ST e non il parse tree avrà questa visione nel mondo più pulita e più semplice un altro dettaglio se vogliamo di pulizia che possiamo fare è per esempio tirare via le parentesi le parentesi sono molto utili e molto importanti durante la fase di parsing perché se io metto le parentesi sostanzialmente vado a cambiare l'ordine degli operatori cioè se io scrivo 1 più 2 tra parentesi e poi asterisco 3 è diverso che se le parentesi non ci fossero state però le parentesi mi servono solo per costruire il parse tree sostanzialmente quando l'ho già costruito e quindi a quel punto so che sopra magari più in alto e quindi prima da eseguire c'è la moltiplicazione e poi sotto c'è la somma le parentesi non mi servono più e quindi nella ST io le butto quindi dico quando mi arriva un'espressione tra parentesi nel parse tree tu delle parentesi disinteressatene prendi l'espressione contenuta converti quella nella ST e ritorna quella così questo è un altro tipo di semplificazione che vado a fare quindi questo era per vedere come funziona il nostro parser sostanzialmente chiamo antler e poi converto il risultato da parse tree a ST con i metodi che abbiamo visto gli extension method che andiamo a iniettare nelle classi del parse tree e che quindi appunto posso chiamare come metodi veri e propri facciamo un'ultima cosa poi che è quella di assegnare i genitori questo perché nell'AST quando io lo costruisco per esempio vediamolo nel anzi lo posso far vedere con un altro test quando io costruisco la ST una delle cose che mi dà la libreria di Pailaso è il fatto che ogni nodo è in grado di capire quali sono i suoi figli quindi vediamo se funziona anche questo siamo due su due io ho parso questo codice e ottengo uno script quindi la mia radice è uno script e questa radice contiene cinque figli che sono i cinque statement come lo capisce che questi cinque statement sono i suoi figli lo capisce perché noi abbiamo questo children che credo sia definito anche questo come un extension method utilizza la reflection sostanzialmente per andare a vedere a esaminare la dichiarazione della mia data classe di riferimento in questo caso la radice dell'albero è di tipo script quindi la classe script va a vedere i figli che ha e va a vedere quali figli di tipo nodo ha e prende il valore da quelli quindi questa cosa qui è uno script lo script ha questo questo campo statement quindi children in questo caso dirà la definizione di script è questa il campo i campi che ha è uno solo statement questo campo che cosa ritorna una lista di statement statement è un nodo quindi i miei figli sono il contenuto di statement notare che se io una data classe che ritorna per esempio un name che è di tipo string e quindi non è un nodo questa cosa qui non mi appare tra i children perché viene filtrata automaticamente e quindi io in questo caso riesco a capire un nodo riesce a capire i suoi figli semplicemente analizzando i suoi campi però in alcuni casi è anche utile che un nodo sappia qual è il suo parent però non avendo modo semplice per fare le relazioni bidirezionali in python quello che facciamo è che popoliamo un campo parent che c'è in nod e lo andiamo a popolare dentro quella assigned parent quindi nell'assigned parent cosa facciamo partiamo dalla radice quindi per esempio lo script lo script riesce a capire quali sono i suoi figli quindi 5 statement in assign parent navighiamo i figli arrivando dal parent quindi stiamo navigando script vediamo che questo script ha 5 figli per ognuno di questi statement gli settiamo come parent lo script in modo che a quel punto il mio st è costruito in maniera completa e posso da qualsiasi nodo navigare al genitore e così via fino alla radice e da qualsiasi nodo navigare i figli e i figli dei figli fino a raggiungere tutti i nodi e questo è utile perché per esempio se io ho dato un intero script e voglio trovare tutti i nodi di un certo tipo posso effettuare un'operazione per esempio di walk come in questo caso in cui dico trovami tutte le concate expression in questo caso ne troverà tre perché c'è questa che contiene a sua volta altre due concate expression e quindi me le trova tutte e tre e me le trova tutte e tre proprio perché questa walk descendant quello che fa è prende la radice gli chiede tutti i figli poi chiede a ognuno di tutti i suoi figli in maniera iterativa quindi raggiunge tutti i nodi e poi in questo caso ho deciso di filtrarli per tipo quindi voglio solo i nodi di un certo tipo e quindi li ottengo quindi questo è un esempio di API che ci viene dall'AST quindi l'API che ci permette di navigare e di trovare i nodi di un certo tipo ok vabbè qui un altro test in cui facevo vedere che se parsiamo del codice non valido otteniamo una issue quindi ci viene riconosciuto l'errore e quindi nel result che ottengo dal parser avrò una issue con un messaggio di errore informazione che è una issue sintattica che è un errore non un warning e anche dove si è verificato l'errore in questo caso ho uno script di una riga quindi non sorprenderà nessuno che l'errore sia la riga 1 però nel caso di uno script più lungo può essere utile sapere la riga e anche la colonna qui ho l'errore mi sto rendendo conto che sto andando molto più piano di quello che pensavo quindi tornerò alle slide adesso che abbiamo visto un po' di informazioni sull'St come si fa e alcune informazioni quindi che ci vengono dall'St quindi la possibilità di avere nodi nodi fighi la possibilità di trovare all'interno di DST nodi di un certo tipo la possibilità abbiamo di identificare anche errori e così via torniamo un attimo alle slide e facciamo giusto la ricapitolazione quindi definiamo le classi dell'St come data classes che chiediamo semplicemente i loro campi definiamo poi degli extension method per capire come convertire il parse 3D hunter in AST e poi vabbè possiamo scrivere una serie di test in cui ci andiamo a scrivere l'AST a mano e lo confrontiamo con con il risultato del parser e vediamo che le cose combacino quindi diciamo è anche abbastanza facile scrivere dei test per il mio parser non so se ci sono domande in ogni caso se avete domande sentitevi liberi di interrompere in qualsiasi momento io una domanda Federico faccio per un esempio se io volessi in qualche modo generare tipo un AST faccio un esempio di PHP ok scritto con un particolare framework c'è già qualcosa ad esempio scritto devo riscrivermi un po' queste logiche a mano per esempio posso partire da una versione generica e poi adattare magari non so per esempio PHP Symfony per dire no non c'è non è adatto magari per il framework perché il framework ha dei particolari costrutti eccetera allora la notizia buona è che è adatto a qualsiasi linguaggio quindi noi abbiamo scritto con questo approccio parser per i linguaggi più disparati la notizia cattiva è che te lo devi fare tu nel senso che non c'è una collezione di AST pubblici già fatti con questo framework quindi al di là di esempi non trovi magari una galleria che ti dice ah se lo vuoi fare vuoi fare l'AST per PHP eccolo lo trovi già fatto qui quindi ahimè lo devi rifare ok ok molto interessante questa cosa ok grazie dunque adesso andrei alla parte più propriamente dell'interprete e diciamo nell'interprete ecco magari posso dire qualche parola in più sull'interprete l'interprete in questo caso in realtà ha usato il linguaggio di scripting ma sta anche usando il linguaggio delle entities di Alessio che ci ha fatto vedere l'altra volta che io non ho nominato ma questa applicazione qui vedete che ci fa editare delle entità di diverso tipo in questo caso per ora client project invoice presentation entità a caso questa entità qui l'applicazione non se le inventa o non sono arcodate ma le legge da un file di descrizione di entità che è quello che ci ha fatto vedere Alessio l'altra volta una volta che nel file legge che per esempio questi sono i quattro tipi di entità mi permette poi di editarli quindi nella pratica per esempio per ora l'applicazione funziona in questo modo se io per esempio gliele tolgo e faccio ripartire l'applicazione che non ha la capacità di capire che ho cambiato un file di configurazione quindi deve ripartire ecco magari mi sposto questa qui ecco e quindi se io ora ecco vabbè se la ricarico sono sulla pagina representation che non ci sono più quindi esplode però se vado qui c'è solo client se io decido che voglio che ne so inserire anche di nuovo project e voglio dire che i project hanno un nome che i project fanno riferimento a un cliente e che i project hanno un valore che credo si dica int se non si dice int lo capiremo perché esploderà forse allora si diceva integer perfetto si diceva integer quindi ora ho il mio client e ho il mio project perfetto mettiamo che io crei un client c e che poi voglia dire ma sai che c'è settagli il nome ic a acme punto inc vediamo sembra aver funzionato e quindi io nel mio project invece magari voglio fare create project sp e poi settare il nome del progetto super project a parte di dare i nomi non è il mio forte e poi voglio settare il cliente al cliente che abbiamo definito di lì ora io qui siccome l'ho definito di là non ce l'ho più come variabile a cui posso fare riferimento però questo linguaggio mi permette di fare riferimento a quel client tramite l'id vediamo ora se funziona non ci me lo salvo così più comodo riscriverlo se casomai esploda non è esploso e quindi ora io posso vedere il cliente qui perfetto potrei anche che ne so dire mi stampi il nome del progetto 2 credo si faccia così non sono sicuro no non si faceva così quindi vediamo un po' la sintassi com'è me la vado a vedere qui per accedere a una feature basta scrivere name of quella cosa lì non devo scrivere quindi posso fare print name of project 2 per esempio e qui mi stampa superproject va bene e se io invece volessi stampare il nome del cliente del progetto 2 dovrei poter fare name of per sicurezza ci metto le parentesi client off project 2 e quindi mi dice questa cosa qui potrei anche concatenarli potrei fare delle operazioni matematiche però giusto così per dare un'idea di che cose che si possono fare ora come funziona questa applicazione funziona così è fatta in flask e l'applicazione quando parte la prima cosa che fa è caricare la lista di entità che sono salvate in un modulo e lo fa con questo metodo questo metodo si aspetta un file web.entities quello che abbiamo visto invoca il parser dell'entità che è anche questo fatto con la stessa logica del parser degli script solo per un altro linguaggio se ci sono delle issue vabbè me le stampa a linea di console se no mi carica il modulo quindi lì ho una lista dell'entità questa lista di entità la passo all'interprete questo perché perché l'interprete ha bisogno di sapere che entità ci sono quando io faccio per esempio create project il fatto che project esista che sia un'entità che abbia certi campi lo capisce da da questa definizione di entities che lui si è letto in load module quindi l'interprete parte all'inizio quando parte l'applicazione a quel punto rimane in attesa e io nella mia applicazione web quando scrivo qualcosa in quella casella di test o primo run il corpo del codice è preso è passato tramite una post al server il server parsa lo script se ci sono issue se le segna se sono issue durante il parsing le somme ad eventuali issue che siano avvenute durante l'esecuzione dello script e poi torna insieme tutte le issue al server cioè al chiamante insieme al flag ok non ok e a quel punto poi lato client noi forziamo a ricaricare la pagina perché non volevamo fare un'applicazione con troppo javascript quindi ricarichiamo la pagina quando carichiamo la pagina noi andiamo a popolare queste tabelle questi log direttamente lato al server prendendo le informazioni dall'interprete quindi chiedo all'interprete ma tu quali istanze di progett hai queste perfetto le stampo che log hai questi e li stampo quindi questa è la struttura dell'applicazione quindi c'è una parte di Flask che non è che sia un pinnacolo del software engineering quindi non è particolarmente interessante la parte che può essere più interessante è invece la parte dell'interprete che è quello che andiamo a vedere adesso andiamo a vedere dei test in questi test io parto definendomi un modulo invece di quindi una lista di entità invece di ottenerle parsando un file entities ho creato la st programmaticamente ma il risultato è lo stesso quindi qui ottengo una lista di entità che voglio usare negli esempi quindi client con le sue due feature product con la feature value project con le altre due feature le uso nel mio interpret e dico all'inizio quando l'interprete parte non esistono entità quindi non ho nessuna entità né di client né di product né di project poi quando definisco lo script in questo caso anche qui avrei potuto parsarlo e ottenere la st parsando il codice siccome questo test l'ho scritto prima di scrivere parser l'ST l'ho scritto programmaticamente eseguo l'interprete a quel punto mi aspetto che l'interprete abbia in pancia un'entità di client e che in particolare con l'entità di client abbia i D1 che quindi di base vengono dati gli D in maniera auto incrementale e essendo che ha due campi di tipo string siano inizializzati al valore unspecified quindi se lo eseguo siamo a 3 su 3 passa anche questo test come succede come cosa succede in questo script andiamo a vedere con il debugger quindi va bene eseguiamo lo script ecco la prima cosa che facciamo va bene è prepararci e dire per ora non c'è nessuna issue va bene e poi andiamo a risolvere i simboli risolvere i simboli cosa vuol dire vuol dire andare a vedere tutte quelle reference by name e capire a che cosa fanno riferimento quindi se io vado qui non ho entity ref type non ho questo non ho niente però ho un create statement nel mio test adesso ho uno script con solo un create statement quindi lo trovo e dico nel mio script create statement io faccio riferimento all'entità che voglio creare in questo caso client e quindi so che il nome dell'entità che cerco è client però non so non ho ancora trovato la definizione di client e devo vedere se la trovo perché innanzitutto se non la trovo vuol dire che sto provando a creare un oggetto di un tipo che non esiste quindi non creerò niente ma anzi andrò a inserire una issue e se invece per trovare a trovare per provare a trovarlo cosa faccio guardo nel mio module la lista di entità in questo caso conosco tre entità che sono lo devo valutare ecco no era entities ecco ho tre entità che sono client product e project quindi le specifico le tre entità che conosco e le passo alla reference my name che sta nella variabile entity dicendo guarda guarda in questa lista se ne trovi una col nome che cerchi se la trovi segnetela quindi in questo momento prima che io provi a risolvere il simbolo s entity è una reference by name che è il nome client ma non sa ancora cosa fa riferimento gli passo le tre cose le tre entità che conosco provo a risolverlo a questo punto reference referred quindi il campo referred la mia reference by name si è associato alla definizione dell'entità e quindi ho tutte le informazioni che ci sono là dentro quindi per esempio so che l'entità di tipo client ha due feature name e address e quindi traccio questi link nella fase di risoluzione quindi qui non dovrei avere altro da risolvere quindi finisco la fase di risoluzione mi setto la symbol table che inizialmente è vuota e la andrò popolare mano a mano che crea delle variabili quindi ora che ho fatto la parte di risoluzione dei simboli ho inizializzato la symbol table quello che faccio vado a eseguire gli statement uno a uno e anche qui che cos'ho ho un grosso una grossa serie di if quindi il primo statement nonché l'unico del nostro script è un create statement quindi il primo dico ammesso che tu sia riuscito a risolvere l'entity durante la resolve symbol allora procederemo altrimenti metterò riporterò una issue e dirò guarda che stai provando a creare qualcosa che non conosco che cos'è quindi lasciamo perdere nel nostro caso l'entity è stata trovata quindi passiamo a chiamare un metodo dell'interprete che va a segnarsi nei dati interni in questa nuova istanza e quindi sono contento se poi nel mio create statement ho specificato anche un nome quindi per esempio ho scritto create client as c allora voglio nella mia symbol table segnarmi che ora c corrisponderà a quel valore in questo caso il nome non ce l'ho e quindi non devo segnare nulla nella symbol table in questo caso ho fatto create client per esempio senza as c e quindi la symbol table non va popolata questo era l'unico statement e quindi niente problemi non ne ho incontrati quindi ritorno qui e proseguo nel nel mio test ora ci sono ci sono un po' di test non li copriremo tutti ma secondo me è utile ancora coprire solo il successivo che anche questo è una create statement e poi ha una set e vediamo innanzitutto se passa passa allora proviamo a vedere questa cosa qui andiamo a vedere che cosa succede in questo caso nella fase di risoluzione quindi questo no questo sì quindi ora di nuovo ho di nuovo la create statement però è uguale a prima lasciamo perdere ecco no cos'era qui il test qui che cos'ho nel mio set statement che sostanzialmente questo equivale a fare set name of new client to acme inc ok in questa cosa qui che cos'ho ho vabbè set parola chiave poi ho l'espressione anzi no ho il nome della feature name e poi qui ho una reference expression cioè un riferimento a una variabile quindi questo new client è questa roba qui ok quindi andiamo a vedere come questa reference expression viene trattata in fase di risoluzione quello che faccio è andare a dire siccome l'unico modo in cui ho che ho per dichiarare le variabili è tramite i create statement io dico provati all'interno dello script tutti i create statement ora in questo caso in realtà visto che è un linguaggio molto semplice tutti gli statement sono direttamente figli di script nei linguaggi reali però quello che succede è che io posso avere degli statement che possono contenere altri statement pensiamo per esempio al for al while all'if eccetera quindi di solito negli interpreti non guardi solo i figli della radice ma guardi tutti i nodi questo qui è il motivo per cui uso walk descendant comunque trovo tutti i create statement e poi dico usa questi per trovare quello che corrisponde al nome che stai cercando che in questo caso è il nome new client ora io tra se faccio questa cosa qui nel debugger dovrei ottenere qui mi ritorna mi ritorna un generator quindi io lo converto a una lista me ne ritorna uno che si chiama proprio new client e quindi me lo associerà perfetto anche qui se non avessi risolto do errore e poi ecco nel set e questa l'ultima cosa che vediamo cosa vado a dire devo fare una ah io può tornare indietro no devo far ripartire il coso perché sono andato troppo avanti ma vediamo di tornarci in fretta dove eravamo qui quindi qui 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 allora questo no questo l'abbiamo visto eravamo alla parte di set ecco ora io quello che sto facendo è questo voglio settare qui voglio settare il nome di new client per farlo io prima voglio scoprire la definizione della feature name però per farlo devo capire dove andarla a cercare e dov'è che la vado a cercare la dovrò cercare dell'entità il cui tipo a cui appartiene new client cioè devo prima capire new client che cos'è devo capire che è un client una volta che ho capito questo guardo tra le feature di client se ce n'è una che si chiama name e quindi in questo caso prima prendo questo new client che era la nostra reference expression e dico calcolami il tipo saltiamo adesso i dettagli su come calcolo il tipo ma lui a questo punto vabbè qui poi ci sono una serie di 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 verifiche per verificare che tutto vada bene ma la cosa che ci interessa è che lui adesso ha capito che questa cosa qui è di tipo client cioè è un'entità di tipo client e quindi grazie a questa informazione mi è sparito il debugger grazie a questa informazione ora posso dire com'è che dov'è che la cerco la feature com'è che la risolvo guardando tra le feature dell'entità che è il tipo distanza quindi siccome distanza di tipo client e siccome client ha queste due feature che sono name e address tra queste troverò name e quindi riuscirò a scoprire a quale feature faccio riferimento perché è importante capire quale feature faccio riferimento perché una volta che so quale feature faccio riferimento posso verificare che il tipo che sto cercando di assegnarlo sia compatibile cioè se io voglio assegnare una stringa al nome va bene perché il nome la feature nome è di tipo stringa il mio valore in questo caso la stringa acme inc è di tipo stringa quindi sia feature type questo r string type che value type che r string type sono compatibili quindi va bene altrimenti avrei dato una issue e quindi li abbiamo viste un po' di corsa però le cose che gli elementi cardine di un interprete sono poi questi questo lo possiamo saltare sono la risoluzione dei simboli cioè quando io ho un nome devo capire a che cosa mi fa l'inferimento perché perché là dentro troverò informazioni utili per esempio trovo capisco che client si riferisce a quella entità adesso so quali feature ha quell'entità e quindi posso verificare se sto provando ad accedere a una feature che esiste o no e anche di che tipo ha che tipo ha poi calcolare il tipo questa è una cosa su cui abbiamo sorvolato visto che stavo andando un po' lungo ma tendenzialmente abbiamo delle regole a seconda del tipo di espressione per capire di che tipo è quell'espressione se è un intero un numero un booleano e usare questa cosa qui per verificare di fare operazioni che siano compatibili quindi concatenare due stringhe mi va bene sommare due numeri mi va bene ma per esempio sommare due boolean non mi va bene così come sommare due stringhe o moltiplicare due stringhe non ha senso e l'esecuzione la cosa diciamo l'elemento chiave alla realtà di un interprete sono due metodi per l'esecuzione vera e propria dopo la fase di risoluzione che sono valutare le espressioni quindi un grosso if che dice se questa espressione è fatta così allora il risultato si calcola così e poi l'esecuzione degli statement che anche qui è una grossa serie di if uno switch nel caso dei linguaggi che lo switch ce l'hanno che mi permette di dire ok è una print allora stampo subito a schermo oppure una set allora mi cambio il valore tra i miei dati interni e una create aggiungo una nuova istanza quindi questi sono poi gli elementi chiavi di un interprete concludo dicendo che troverete a questo punto forse nel main non nel branch serata 2 tutto il codice su github e poi anche il codice che farà vedere Alessio la prossima volta e che qua dentro trovate tutta una serie di risorse nel caso vogliate approfondire quindi abbiamo una community specializzata in language engineering dove abbiamo presentazioni settimanali abbiamo un lungo tutorial su antler che fa esempi principalmente in python abbiamo un videocorso però quello in realtà interessa proprio se poi volete proprio di fare del vostro mestiere questo altrimenti non guardate l'avete il tutorial che è molto approfondito pilasu questa libreria open source disponibile su github documentazione su starlasu se proprio siete appassionati dell'argomento abbiamo anche dei webinar che possiamo fornirvi e solo che tutto il materiale è in inglese e quindi niente se abbiamo le domande siamo qui grazie mille Federico bellissima questa tua immagine per chi non ha cerchito sotto piazza il bambino è stata bella questa chicca molto 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 interessante questa questa serata è quello che ci hai presentato io mi metterò all'opera per provare a realizzare appunto c'è proprio si parlava proprio di questo tra l'altro come trasformare del vecchio codice in php in codice in javascript tra l'altro quindi insomma seguo con molti momenti questo finore c'è qualche domanda qualcuno che vuole chiedere qualcosa qualche dubbio qualche curiosità ma io ho una domanda vai perché se non erro io avevo letto qualcosa appunto su Antler 4 diciamo che la libreria permette poi dà degli strumenti per visitare il parstrino per poter provare a scrivere eventualmente degli interpreti voi invece se avete capito se ho capito bene avete cambiato un po' il paradigma avete deciso di partire dalla ST e poi e poi lavorare sulla ST corretto? Sì tradizionalmente Antler viene già con degli strumenti per processare l'output di Antler che è il parstrino che noi scegliamo di elaborare e di trattare in maniera diversa uno però per applicazioni che non siano magari un po' più semplici non ha necessariamente bisogno di ricorrere all'ST può usare direttamente il parstrino di Antler e tradizionalmente si utilizza insieme al visitor o al listener che ti dà Antler che sono degli approcci diversi che possono mi avviso andare bene ed essere comodi per applicazioni più semplici io personalmente per altri tipi di applicazioni mi trovo più a mio agio con dei meccanismi diversi di navigazione dell'albero come quelli che abbiamo visto ma sì è vero che tradizionalmente il visitor è la cosa che si usa di più quindi sì è un altro modo è un'alternativa diciamo è un'alternativa in entrambi i casi ho un albero nel caso direttamente di Antler o Parstree nel nostro caso l'AST e ci sono diversi modi di lavorare su un albero quello del visitor è uno di questi che per certe applicazioni può essere comodo ecco specialmente diciamo il visitor è comodo se vuoi fare delle cose al volo cioè tu immagina per esempio che tu voglia che ne so attraversare un file html e mano a mano che o xml magari ha più senso mano a mano che incontri certi tag che ti interessano vuoi salvare delle cose sul database vuoi scriverti un output però non vuoi ricordarti tutta la struttura quindi magari nel mio visitor dico ho il metodo che ne so visit tag dico se il nome del tag è il nome del tag che mi interessa allora fai questa cosa qui nel visitor una cosa del genere è immediato il visitor però per contro non ha torna meno comodo nei casi in cui tu vuoi avere memoria di quello che hai incontrato prima come per esempio il caso di un process di un interprete dove magari vuoi ricordarti che hai una variabile l'hai incontrata vuoi magari saltare e ritornare a ritrovare la definizione di quella variabile in quei casi di il visitor a me personalmente non sembra la soluzione più più comoda ecco una domanda un po' più di frontiera anche un po' più sciocca se vuoi vedendo il tutto il mondo nuovo dei generative AI no quindi non so OpenAI Codex e tutto questo nuovo mondo no che poi ha portato l'ITAP Copilot eccetera sai se ci sono delle ricerche se qualcuno sta lavorando a qualcosa del tipo partendo appunto da una grammatica generare una ST in modo semi-automatico o se qualcuno si sta occupando di queste cose se c'è ricerca se c'è insomma generare da una grammatica degli esempi di ST a caso era proprio il tema della tesi della settimana scorsa e quindi una tesista dell'università di Bergen ha lavorato su quel tema lì il problema cioè lei in particolare lo faceva perché voleva dire io data una grammatica voglio generare tutti gli esempi per coprire tutti i costrutti lo puoi fare il problema però qual è che nella grammatica tu non hai certe informazioni su dei vincoli cioè per esempio nessuno ci dice guardando esclusivamente la nostra grammatica che quando provi a settare il valore di una variabile quella variabile devi averla dichiarata prima quindi un approccio puramente generativo così senza ulteriori informazioni non ci arriva a capire questa cosa quindi quello è un po' un limite una cosa però di esempio di di combinazione di machine learning e di language engineering è un esperimento che ha fatto mio collega Maurizio Taverna con l'idea di utilizzare il machine learning nell'ambito dei transpiler quindi l'idea è di dare degli esempi mettiamo voglio tradurre da PHP a Python ti do un esempio di PHP e un esempio di Python e ne do una serie e poi automaticamente il transpiler provi a capire da lì rispetto a diciamo un approccio a magari la traduzione automatica che ci può essere nel caso dei linguaggi naturali noi abbiamo il vantaggio che i nostri linguaggi sono molto più limitati e costretti dall'AST e quindi nell'esperimento del mio collega lui non lo faceva direttamente sul testo iniziale ma si costruiva l'AST e lo faceva a quel livello e quindi la dico molto alta perché per i dettagli rinando all'articolo ma il messaggio principale così come l'ho capito è che siccome noi non confrontiamo linguaggi così aperti e liberi come quelli naturali ma linguaggi molto più costretti e sfruttando l'AST riusciamo ad avere un traduttore che funziona con un numero molto più basso di esempi perché altrimenti non sarebbe sostenibile quindi l'abbiamo fatto solo a livello di POC proof of concept però chissà magari in futuro andiamo a espanderlo molto 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 interessante ok diciamo sulla complessità per entrare nel campo cioè nel senso sembra molto vedendo anche il codice come l'assembly moderno e quindi c'è uno dice c'è è proprio una specializzazione specifica questa no quindi anche è difficile anche trovare almeno io negli anni non ho mai trovato un language engineer quindi quanto è di nicchia quanto sì è molto di nicchia e io per esempio ho fatto il dottorato su questi temi cioè più sul model driven development poi sono sfuggito su questi temi qui e anche io mi scontravo con poi la possibilità di incontrare dei casi reali quindi per esempio ho andato a fare uno scambio in Germania proprio per lavorare con un'azienda che si occupasse di queste cose nel concreto avere la possibilità di metterci le mani ed è vero che un ambito magari che io personalmente avvicinandomi mi trovavo chiuso facevo molta fatica a entrare a riuscire ad avere un riscontro capire che cosa si facesse in pratica anche perché molte delle soluzioni che per esempio noi facciamo per i nostri clienti i nostri clienti non hanno alcun interesse e quindi è anche difficile raccontare incontrare dei casi che siano aperti e per sconfiggere un po' questa cosa noi abbiamo provato a creare la community specializzata sul language engineering e ci confrontiamo con gli altri e quindi cerchiamo di raccontare cerchiamo di scrivere articoli però sì per una persona che non è nell'ambito è difficile entrare anche per esempio il nostro collega che abbiamo assunto più di recente è entrato alla fine ha fatto due mesi di training full time su queste cose qui seguito per esempio dal buon Alessio e quindi sì non è non è facile non è anche per dare un'altra dimensione del fatto che sia una nicchia noi per esempio siamo un'azienda basata in Italia ma abbiamo clienti in tutto il mondo ci piace pensare anche perché siamo bravi ma anche perché comunque non ci sono milioni di aziende che si occupano di di questo argomento ecco questo che sentivo che facevi anche l'esempio con Marshall learning secondo te che sei il futuro di questa nicchia come la vedi? ma allora noi abbiamo se vuoi una specializzazione tecnica il fatto di saper giocare con linguaggi che però poi si applica per risolvere diversi problemi di business quindi a seconda del problema di business uno può vedere un futuro più o meno rosio personalmente io vedo un futuro molto interessante per esempio per i domain specific languages perché io credo che praticamente ogni specialista ogni giorno abbia bisogno di accedere in qualche modo alla possibilità di scrivere automazioni di catturare la sua conoscenza e formalizzarla anche solo per verificare che quello che fa sia corretto e questa cosa può agire come moltiplicatore ti faccio un esempio stupido se vuoi ma uno psicologo uno psicologo oggi cosa può fare? può aprire il suo studio e servire un paziente alla volta però mi ricordo qualche tempo fa di essermi mi avessero mandato uno di quei quiz sulla personalità che ti faceva varie domande ti dava un profilo e poi alla fine vedo questo sondaggio questo questionario l'hanno eseguito mezzo milione di persone ora per carità non è che lo psicologo possa catturare tutta la sua competenza in un banale questionario automatizzato però magari in un questionario un po' elaborato con una certa logica se è in grado di descriverla può automatizzare una parte di quello che sa e offrirla a una scala che umanamente non potrà mai offrire o se pensiamo al DSL nell'ambito medicale il fatto che il medico possa dire per catturare la logica attraverso la quale decide quando è il caso che ti prendi due aspirine invece che una quando è il caso che ti inietti tot di insulina non è che rimpiazzi il medico però ti dà la possibilità magari di avere un supporto che per certi versi è quasi come se avessi magari non il medico ma uno studente di medicina al primo anno di fianco a te a casa tutto il giorno e quindi secondo me creare dei linguaggi che permettano dei professionisti di rafforzare quello che fanno agire da moltiplicatore è secondo me una cosa che ha degli spazi molto alti con strumenti editor sempre più furbi che colgano gli errori se vogliamo banali implementativi e ti permettano di concentrarti sulle idee di alto livello faccio ancora solo un esempio che è questo che una volta abbiamo parlato con un'azienda e loro facevano reportistica per analisi per un'azienda e il loro cliente ogni volta che un manager della loro azienda voleva analizzare i dati da un altro punto di vista gli chiedeva a loro di scrivere il codice per farlo quindi questi studiavano la cosa gli facevano il preventivo poi facevano lo script il manager lo utilizzava diceva no non avete capito un tubo dovete farlo in quest'altro modo alla fine lo faceva girare e magari trovava delle cose nuove che poteva migliorare nella sua azienda o magari era un tentativo che era andato a vuoto ora quando tu passi per l'intermediazione degli sviluppatori la tua possibilità di sperimentare è molto limitata cioè devi pagare magari migliaia decine di migliaia di euro aspettare settimane per fare un tentativo che poi magari è un buco nell'acqua se tu invece hai un linguaggio e te lo puoi fare tu in un pomeriggio magari di idee ne provi tre tenderai a essere più creativo tenderai a poter sperimentare noi forse sviluppatori diamo per scontato l'accesso a questi mezzi ma secondo me metterli nelle mani di persone che non siano sviluppatori io credo sia rivoluzionario ecco questo è interessante io una cosa che mi sono sempre chiesto per esempio è perché ad esempio le piattaforme no code con questo nuovo paradigma che sta nascendo tipo vuoi disegnarmi le interfacce graficamente al posto di generare del codice in un particolare linguaggio di programmazione non posso utilizzare un altro linguaggio più semplice magari e fare qualcosa di un po' più strutturato potrebbe essere una soluzione alternativa no che magari funziona anche meglio tra l'altro in alcune piattaforme sì secondo me è un modo diverso di affrontare lo stesso problema che è quello se vuoi di democratizzare l'accesso al software l'approccio di SL allora diciamo forse no code e low code poi magari le mischie non dovrei ma tendono a voler rendere un sacco di cose più semplici e però non è facile fare dei linguaggi dell'interfaccia che ti permettano di esprimere un sacco di cose i linguaggi di SL invece tendono a dire no guarda tutto non riesco a fartelo fare però descrivere l'algoritmo il bot per il trading sì descrivere l'applicazione business per l'ambito della pubblica amministrazione che è un altro cliente sì descrivere l'algoritmo medicale sì quindi con delle parole chiave limitate con delle possibilità limitate magari il concetto di data per esempio non ti serve non c'è però diciamo un altro modo di tagliare il problema però forse gli scopi finali sono simili ecco ok scusa una domanda semplice e veloce posso farla? ho paura quando dici così no no ma è proprio una curiosità in ambito cyber security non c'entra nulla mi pare da dire il contrario abbiamo avuto qualche contatto in ambito cyber security però poi non sono lavori che siamo finiti al fare erano comunque sempre idee del tipo analizziamo che per esempio non è che tu avevi una variabile che si chiamava password e poi l'hai presa l'hai messa in quell'altra variabile poi dieci righe più sotto hai fatto una system out che contiene quel contenuto cioè la dico banalmente quindi un po' l'idea c'era personalmente di cyber security non capisco nulla però una possibile applicazione potrebbe essere quella nella realtà poi non ci ho mai lavorato immagino sia complesso era proprio language engineer parsing analizzare il codice per intercettare delle particolari chiamate forse post non pre però che sa che quelle possono essere pericolose quando escono gli zero dei insomma con queste cose qui e magari uno analizzando il codice se ha già una grammatica pronta o anche un intervento sulla semantica può provare a intercettare prima è un'idea ma è venuta però non so se può essere disperata sì poi per fare certi tipi di analisi poi può essere complicato magari devi fare l'analisi del data flow cioè questa variabile che giro fa dove è che finisce cioè sono poi tipi di analisi che per cui parti sempre dall'AST dovrai sempre fare cose come la risoluzione dei simboli però poi dovrai fare anche altre cose particolarmente avanzate quindi non facili però sì il punto di partenza poi è sempre l'AST anche per quel genere di applicazioni a livello di tempi di sviluppare diciamo un progetto anche piccolo però che sia diciamo di business non il mio hello world quanto tempo necessita cioè quanto di norma dipende molto dal tipo del progetto per esempio sul notepad fare il parser del codice python ok per cui anziché farmi me lo voglio fare su notepad o sul block notice di windows ok quindi quanto tempo il base di python non tutto il linguaggio python se uno volesse fare un piccolo parser per python e conoscesse già antler un po' e volesse non lo so farsi un parser giusto e poi scrivere qualche test per verificare che riconosca i costrutti di base questa non è un'operazione particolarmente lunga secondo me in qualche ora inizia ad avere un abbozzo che riconosca gli elementi principali del linguaggio ok direi che ci siamo Federico devi mandarmi poi questa foto però la cerco grazie mille davvero per la serata è stato super interessante grazie anche Alessio per la scorsa e per la prossima lunedì prossimo quindi vi aspettiamo sempre lunedì prossimo per la terza serata e grazie ancora davvero strumento a Federico per la disponibilità e per tutto il materiale insomma grazie a voi grazie a voi di essere stati qui ci vediamo la prossima settimana e se siete su YouTube mettete come si dice la campanella seguiteci così rimanete in contatto a presto grazie grazie a voi